se l'ha fatto andare bene niente neanche stavolta ma questi litri quando le hanno ideate cosa hanno pensato esattamente è certo perché io con star ma riesco a prenderlo no vabbè sono inguardabile sono c'è non ho proprio mira su sto gioco non solo su sto gioco 33 white 33 white ok è morto allora per avere per avere la mia capacità c'è un solo metodo ok allora mi dimmi di dire case in case case in case in hughes e neon chise case il pulso in chise case in puse in cisen a svis the snunnages now a viz znäness nascizna o puzen puzen pruzen fase nesen Grazie gentilissima Questo era il pedaggio No non è il pedaggio è proprio il modo per avere le Mk7 E' l'unico Da qua mi sa Sotto? Ah no ecco di qua Arrivo da te Morto? Grazie mille Vedo il boomerang ma non vedo lui Non cadono? Non so dove sia il meta Sopra mi sa forse Eccolo Alta montagna Ho vissato tutti i colpi Ma l'ha ucciso questo? Non te l'ho visto? No E' lì dietro Era nel bush buongiorno Oddio 23 44 Non lo vedo Quale Mk7? Ah non lo vedevo E' te Io ho fatto il mio Arriva l'altro Allora ma scarico ok E' già white Vai valla a prendere Go get em Dai Ma vieni qua Ma dove scappi? Dividigli caso in caso e ne muore Gente sopra di noi Due team Attenta Dove sono? Ti prefiro Minchia lei è in bot Raga I wish I knew you were Ma come si chiama questo? Ah ma aspetta Mi sei andata Arrivo Ah io sono andata qua Ho uscito solamente quello che Mi pushano forza Traccato mio Dovrei farmelo Ti lascio il tuo Io ho fatto il mate vai Fatti il tuo No ma ho fatto cadere Non ci credo Spaccando con la zipline Cioè Ma quanto posso essere sfigata? Fatti il batterio Cioè con la zipline Ho spaccato Ma cosa fai? Esaurimento Ok comunque si Meglio l'MK7 Eh è potente eh No è più Ah io non ho mazzo Vabbè Più preciso Vieni qua che ti li vieni insieme Che ti li do io Hanno rifiutato Eccolo da me Da te Non lo vedo da qua 30 30 chicca Sei sola 40 Quindi poi c'è 50 E poi 60 no Sei fatta la slurp Sei fatta la slurp 26 26 craccato Madonna come passano i colpi Con l'MK7 comunque Vai 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 Craccato 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 Madonna No anche lui slurp Hanno messo venito i bunker Due cose diverse Eh sì Hanno preso due robe diverse Boh Va la capire Forse hanno preso Uno il cavo Con le quattro slurp E uno il barile Con le quattro slurp Sai Sì Probabile Probabile Comunque trapassa Tutte le build A destra Chicca Sei no Perché Tranquilla Ma perché Non ho le slurp Ecco Bene Fantastico Non ho le slurp Non so dove l'ho lasciata Io convincissima Di averle presi La faccia al volo Sono un fenomeno Aspetta Aspetta E qua fuori Se vuoi aprire In casa Spariamo insieme 130 Buonissima Ottima Ok Che buono Puoi buildare Sono qua da te L'ho distrutto Non so se L'altro pin canna Ma Ah sì Ma da dove Scusa Ma ha preso È bravo Ok Ok Mi faccio i mini Che è l'unica Cura che ho Non so se quello sotto Vado a delle slurp Fai clicca Bisogna Andare a vedere Mi giovane Sicuro Allora Forza no Non senti da me Vabbè Non riesco Non riesco a prendere Questa qua Vado in safe Vado in safe Non lo so Non lo so Attenzione Bello Su shot Ok mazza Non posso fare niente Oddio Non so come ha fatto a morire Questo Come ha fatto a morirci Non lo so Non doveva morire Questo è poco ma sicuro Mannaggia Ma basta Questi due è un solo Vabbè Scoppiato proprio C'è pure le slurp Pulita Questa è la chiama pusho da solo Mi dici quanti team sono Sei contro uno Verso su uno Te l'ho detto prima Ascolami Quindi uno vi uno vi uno Eh ma non ti posso interessare No no Non puoi Non puoi Non puoi Falla 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 La winni La winni Oh eccolo lì L'hai visto no? Albenzo Vabbè Questo qua non mi raga Questo Questo Giampiero Si chiamava Eh Ecco vedi te l'ho detto Te l'ho detto che erano insieme lì E questo è un problema Aspetta 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 Questo è un problema grave E loro sono in low Eccoli qua Ciao proprio Eccolo lì Ah bobo così C'è Un danno dall'alto misero Eh ma era quello Ressato E nel dubbio Questa per ressarlo Guarda che per ressarlo Ha perso il game lui Eh beh Cacchio Era più worth se si faceva un 1v1 con me full fullato che fare così perché si è letteralmente fulgrifato Non avevano neanche vita questi ultimi No faceva 8 la safe faceva troppo danno Eh appunto Faceva troppo danno era proprio no sense Vabbè non ha abbandonato la femma prezza No Ciao Ciao Ciao